Cambiamo argomento e proiettiamoci adesso nel mondo della letteratura con i grandi classici che da sempre hanno avuto la forza, hanno tutt'oggi la forza di riuscire ad arrivare oltre tempo e ad attraversare le epoche di intera generazione, così per i film, anche per le opere d'arte, ma soprattutto per i romanzi che riescono anche a valicare le mode. E oggi nel nostro spazio letterario ci addentriamo in un testo prezioso, alla scoperta di questo testo prezioso che ha ancora tanto da raccontare attraverso i suoi simboli, i misteri, quelle delle avventure di Alice nel paese, nelle meraviglie. Abbiamo in collegamento il suo autore Vito Foschi. Buongiorno, grazie di essere qui con me quest'oggi. Buongiorno a voi. Allora, con questo libro lei regala un approccio diverso al classico firmato da Carroll. Siamo in realtà abituati a conoscere il personaggio Alice nell'aspetto fiabesco e anche mutuato nella versione cinematografica della Disney. Ma posso chiederle chi è davvero questo personaggio? Perché in realtà si parla anche di un romanzo di iniziazione. E se si dove intravedere questa forma di iniziazione? Allora, il romanzo di Alice ha molteplici chiavi di lettura perché è un'opera come tutti i classici che ancora a distanza di secoli ci dà sempre nuovi significati, nuove interpretazioni. Alice finora è sempre avuto una chiave di lettura fiabesca e l'autore secondo me aveva l'intenzione di scrivere un libro per bambini. Però essendo un autore, come dire, molto in gamba, comunque con un'intelligenza particolare, quindi come molti autori che si dedicano alle opere di Fantasiano, hanno una capacità di travedere oltre la realtà che alla fine trasfondono nelle loro opere. Poi una recente scoperta su Carol è che ha avuto anche interessi esoterici. Non ha mai praticato, cioè non è stato frequentato circoli iniziatici, però aveva un'ampia biblioteca dedicata alla magia, diciamo all'esoterismo. Quindi tutte queste conoscenze secondo me sono andate a finire nel libro di Alice. Sono confluiti lì, quindi Alice Pese di Meraviglia in realtà riserva una serie di simboli, ma laddove i personaggi strambi non sono semplicemente strambi e quindi frutto di fantasia, ma ognuno di essi conserva alla base un sottotesto. Ma da parte sua quando avviene questa voglia di ricercare, di avviare una ricerca diversa, più accurata di questo testo? Sì, diciamo che tutto sommato a me mi è sempre piaciuta l'opera di Disney, dell'interpretazione disneyana di Alice. Poi ho ritrovato Alice anche in alcune opere di fantascienza, quindi c'è sempre stato una sorta di peregriminazione intorno a questo testo. Poi avendo anche io interessi per il simbolismo, per la certa spiritualità, ho riletto questo testo in età adulta e ho visto che tutto sommato quello che c'era non era solo un libro per bambini, un racconto meraviglioso, ma anche c'era qualcos'altro. C'è altro, vogliamo conoscere quello che è altro, perché effettivamente noi siamo invece legati a una chiave di lettura interpretativa semplicemente veramente fiavesca, dove tutto appunto ha dello straordinario, tutto ha un sapore magico, diverso da quello che invece è il simbolo che ogni personaggio richiama. Ma quali sono questi simboli? Allora, ci sarebbe da spiegare tutto il libro, però anche lì, banalmente, quando Alice si assopisce e vede il bianconiglio, non è semplicemente un sogno, il sogno è come una fase del viaggio iniziato, quindi si parla sempre di morte iniziatiche o di sonno iniziatiche quando una persona passa da una fase, diciamo, laica a una fase un po' più... A metà tra mondo classico e mondo esoterico, quindi la tana del coniglio diventa la caverna della Dea Madre, laddove poi appunto inizia questo viaggio di iniziazione, no? E così come Buccalifo rappresenta poi la trasformazione iniziatica, proprio nella... Sì, esatto, perché il bruco è proprio uno dei simboli dell'iniziazione, perché lui si trasforma da cristalli e diventa una farfalle, quindi c'è la trasformazione, diciamo, da uomo normale a uomo spirituale. Quindi anche lo specchio mi viene da pensare che rappresenta il mito di Dioniso. Sì, esatto, poi lo specchio ha molto simbolismo che ha accumulato nel passato, è usato anche come strumento di diviniazione, ma anche come sinonimo della divinità, perché diciamo, la realtà la vediamo come uno specchio dell'opera di Dio, quindi la realtà è un'opera dello spirito, quindi anche lo specchio riflette, quella attività di riflessione ci riporta a qualcos'altro. A qualcos'altro. Senta, mi permetta la curiosità, lei giustamente ha voluto restituire quelli che erano i messaggi importanti, no? Per l'autore del romanzo, Carroll, quindi restituendo probabilmente la giusta, sicuramente la giusta interpretazione, però nel corso del tempo, sebbene questo personaggio sia ancora molto apprezzato, è stato ridimensionato ad una dimensione meramente fiabesca. Perché è accaduto ciò? Che cosa è successo nel corso del tempo, di questi anni? Poi diciamo, l'opera anche di Disney, un po' l'ha trasformata in una semplice fiaba, anche quello, diciamo, obiettivamente la Walt Disney a livello mediatico è stata molto importante. Poi anche su Carroll come autore si è voluto lasciarlo, come dire, all'opera fiabesca anche per altri motivi, quindi questo è un po' stato trascurato. Tra l'altro, sì, nel senso che Carroll comunque come autore contemporaneo in quel mondo, probabilmente neanche era stato apprezzato il romanzo, perché l'aspetto spirituale e politico è stato volutamente censurato, quindi tutto partirebbe anche da lì. Sì, diciamo, è stato sicuramente trascurato, intanto non si conoscevano gli interessi esoterici dell'autore, e questo è stato il primo motivo. Poi, torno a ripetere, l'opera è scritta per i bambini, questo per me rimane un punto fermo, però è una di quelle opere che può essere letta anche in altro modo. Lo stesso Pinocchio ha avuto altre chiavi di letture, nonostante rimane un testo per bambini. È stata un po' una serie di coincidenze che l'hanno portato un po' a rimanere nella letteratura per bambini, al contrario di altri testi, pensiamo al Piccolo Principe o allo stesso Pinocchio. Esatto, senta, questi sono dei riferimenti comunque, dei parallelismi comunque importanti, non banali, però ecco, noi oggi a questo punto siamo preparati a voler rileggere una diversa forma di lettura di questo testo, sicuramente panciullesco, così come se c'è stato tramandato, ma ci consiglia la chiave di lettura, ecco, verso quale, come possiamo essere indirizzati alla lettura di questo testo? A questo punto consiglierei il mio libro, sinceramente, offre una chiave di lettura diversa del testo di Alice, un testo che ne dà una lettura più adulta e comunque più approfondita del testo. E noi lo leggeremo allora, Simboli e misteri nell'avventura di Alice nel Paese delle Meraviglie, ne abbiamo parlato col suo autore Vito Foschi, che ringraziamo per avercene parlato. Grazie davvero. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a voi.